Devo dire che mi sono divertito moltissimo stasera, è stata una bellissima partita tra il Benevento e la Lazio, che la Lazio avrebbe creato occasioni da gol penso che nessuno ne dubitava prima del fischio d'inizio, mentre il Benevento ha mostrato la sua versione migliore, non quella sfoggiata contro la Roma e contro l'Inter dove ha subito 5 gol, ma quella anche messa in mostra contro la Juventus. Indubitabilmente la strega sta crescendo ed è sempre più squadra da Serie A, a breve nessuno la definirà più una neopromossa perché ha dimostrato di saper affrontare certi tipi di impegni. Invece la Lazio dimostra come a gennaio ci sia bisogno di movimenti perché gestire tre competizioni dove la terza non è l'Europa League, dal quale comunque lei usciva sistematicamente, ma è la Champions League, quindi per avere una condizione fisica decente serve una rosa non solo più lunga perché comunque la rosa Lazio non è che sia corta, però di maggiore qualità. Comunque belli tutti e due i gol, soprattutto quello immobile ma anche quello di Schiattarella, direi che alla luce di tutte le considerazioni fatte fino a questo momento il pareggio mi sembra sinceramente giusto.